Sta per arrivare un'intensa, ricca di emozioni, quattordicesima giornata. Il Bari, dopo la disfatta intera stabiese, punta subito al riscatto contro la Vibonese, già cappone del recupero di Catania e ultima della classe. Per i galletti di Mignani è una buona occasione per scacciare le critiche e per dimostrare che l'armata bianco-russa merita la leadership della classifica. Dall'accanto suo alla compagine calabresi di D'Agostino non starà di certo a guardare, ma il pronostico sembra scontato. Il Palermo scende in Lucania, Alviviani e Rosanero affronteranno il potenza di Trocini, reduce da due vittorie di fila tra le muramiche e che in casa è molto temibile. Il blitz di Andria, dall'altra parte, ha caricato i siciliani che hanno tutta l'intenzione di consolidare il secondo posto in classifica. Derby d'alta graduatoria anche Alviviani, tra Monopoli e Taranto, gli ospiti tuonano dopo il cappo di Avellino. Monterevino ancora si recca le ferite e chiede ai suoi una gara gaiarda in casa dei Biancoverdi di Colombo, che invece vogliono continuare a stupire. Al Massimino, altro scontro da B e Catania Foggia. I satanelli qualche ora fa si sono visti togliere quattro punti classifiche. Catania, nonostante tutte le avversità, invece, è la squadra che ha fatto più punti negli ultimi due mesi. Non ha alcuna voglia di fermarsi. Curcio sfida Ferrante. La Juve Stabia almenti per bissare la bellissima vittoria sul Bari. Arriva una delle squadre più in difficoltà in terra stabiese, il Monterosi di Menichini. Laziali, reduci da 4k di fila, ma non sono escluse. Sorprese. Al Torre, a Grassadone e la sua Paganese, imbattibili in casa, ospitano il fanalino di coda Fidelisandria. I campani, tra alti e bassi, sono nel limbo tra la zona tranquillità e quella playoff. Urge una vittoria per consolidare gli obiettivi ambiziosi prefissati ad inizio stagione. Al Francione e Latina ospita il Campobasso. Se da una parte i pontini hanno vinto soltanto in casa, ed il dato potrebbe spaventare i morisani, il Campobasso ha già vinto tre volte lontano dal nuovo Romagnoli e quindi il match è apertissimo ad ogni tipo di risultato. Al Curcio, Picerno, Virtus, Francavilla. I biancazzurri sono carichi dopo la bella vittoria in Nermonta proprio su Latina. I Lucani, dopo il capone del derby contro il Potenza, cercano punti per non essere risucchiati nella zona calda della classifica. Chiude il quadro il big match dei Liguori, tra la Turis e il Catanzaro. L'attacco formidabile dei Coralini di Caneo, il migliore del girone con 26 gol, sfida quello sulla carta più completo, quello delle acule di Calabro. Carlini, Van de Putte, Cianci, Basquets, tanta roba, con i vari Sant'Anielo, Giannone Leonetti, si prevede nel Monday Night il classico festival del gol.